Ti ricordi la storia che ci hanno raccontato all'addestramento? Sulla prima spia donna di George Washington durante la rivoluzione, la chiamavano Agente 355 perché non volevano che il mondo sapesse il suo vero nome, ma la sua eredità sopravvive. Siamo le migliori agenti segrete al mondo. Ma adesso abbiamo un nemico comune. Una terza guerra mondiale. Provocata usando una tastiera. Perciò dobbiamo unire le forze. C'è la metà dei ricercati della CIA. Sempre una gran donna. Non sono un agente, sono una psicologa. Pensava che le avrei detto i miei segreti? Ce li ha i segreti? Mettiamo in pericolo la nostra vita per salvare quella degli altri. Penso io alle armi. Ci vai in terapia? No, ma dovrei. L'obiettivo è in movimento. Tu non entri lì da sola. Andiamo insieme. Io ho una famiglia. e non posso più farlo, non più. I cattivi ci stanno cercando. Se torni a casa, li porti con te. Riesci a controllarti? E tu? No. Bello il nuovo team. Siamo il 355. Qui? E qui? Grazie per la visione!